E' ancora un rinvio, stavolta al 20 settembre, l'esito della seconda udienza preliminare relativa all'operazione di integrazione societaria tra A e B e A2A. Il GUP del Tribunale di Monza Elena Secchi ha deciso di aggiornare le parti tra circa tre mesi rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio per turbativa d'asta e turbata libertà nella scelta del contraente di sei persone, tra cui il sindaco di Seregno Alberto Rossi e gli ex presidenti delle due aziende Loredana Bracchita e Giovanni Valotti. Un'operazione che, secondo la procura, avrebbe sopravvalutato gli asset di A2A con un danno in capo ad A e B di circa 60 milioni di euro davanti alla mancata indizione di una procedura ad evidenza pubblica da parte del Comune di Seregno finalizzata alla scelta del socio privato di A e B individuato invece in A2A. Alla base del rinvio la necessità anche di valutare un'istanza del legale di Valotti che riterrebbe la questione competenza territoriale di Milano e non di Monza, ma anche tre nuove richieste di costituzione come parti civili nel processo penale provenienti dal Consiglio Comunale di Lissone, i due consiglieri di opposizione Antonio Erba e Marino Nava e uno di maggioranza Daniele Fossati. Il Comune di Lissone infatti ha deciso di non seguire la strada della presentazione come parte civile portata avanti da Seregno, Limbiate, Desio, Varedo e Bovisio Masciago e così i tre consiglieri hanno richiesto di essere ammessi all'eventuale processo individualmente perché, come spiega Fossati, se le tesi della procura venissero accolte si tratterebbe per lissone di un danno da circa 7 milioni di euro e il sindaco Borella, aggiunge il consigliere, preferisce l'azione civilistica senza partecipare alla fase processuale penale.